Beni per oltre 700.000 euro sono stati sequestrati dalla Guardia di Finanza di Gera nell'ambito dell'operazione Bang Draft a segni circolari. Si tratta di due mobili, di un terreno, di un immobile abusivo in corso d'opera, di un'attività commerciale, di due autovetture, tra cui una BMW X5, di una moto e di cinque depositi bancari, tutti riconducibili ad un noto soggetto vicino al clano mafioso Emanuello e coinvolto nel traffico di droga. Le fiamme gialle del locale comando, diretti dal capitano Massimo De Vito e coordinati dal tenente Gilberto Gerli, su disposizione della direzione distrattuale antimafia di Caltanissetta, hanno eseguito i sequestri dalle prime ore del mattino. Il soggetto colpito dal provvedimento era già stato coinvolto in una precedente indagine degli stessi finanzieri di Gela, operazione Family Market, del 12 gennaio del 2010, nella quale fu stroncato uno staturizio criminale dedito al traffico di sostanze stupefacenti. Secondo quanto stabilito dalle indagini, grazie alle intercettazioni, era emerso che soggetti imparentati tra loro e con il contributo delle rispettive mogli e dei loro più stretti parenti gestivano lo spaccio di cocaina a Gela acquistandola a Mantua nelle zone del Catanese e del Palermitano. In quell'occasione 38 persone furono raggiunte da custodia cautelare e 74 furono denunciate. Per la fornitura di sostanze stupefacenti, il sodalizio criminale gelese, avvalendosi di consolidate conoscenze in territorio catanese, palermitano e mantovano, si avvaleva dei propri referenti e provvedeva al sistematico invio di corrieri deputati al ritiro della droga. Dall'altro, una volta ottenuta la sostanza stupefacente, il gruppo criminale, forte di vincoli di parentela, si occupava di gestire la fase dello spaccio. Dall'ora ad oggi l'attività di indagine è continuata in maniera meticolosa. Adesso sono stati aggrediti i patrimoni. Passata al setaccio la situazione patrimoniale, reddituale e finanziaria del soggetto al centro del traffico di droga. Il codice antimafia ci permette di continuare a verificare la posizione di queste persone anche dopo l'arresto e di conseguenza evidenziare la sproporzione tra i beni dichiarati e i beni effettivamente posseduti da questi soggetti, dando come presupposto la possibilità che questi beni siano derivanti da attività illecite. Con l'attività odierna, quindi sono stati posti sotto sequestro diversi beni riconducibili a uno di questi soggetti, grazie a una meticolosa opera di controllo dei flussi finanziari e economici dei beni di questi soggetti e soprattutto andando oltre all'apparenza, quindi andando a guardare quelli che erano i reali possedimenti e non quelli derivanti dalle fittizie intestazioni, dalle interposizioni di persone che non erano collegabili direttamente al soggetto.